ciao ragazzacci sono quello la in fondo oggi la il telefono un po lontano non ho il mio cine operatore a riprendere e quindi va beh le riprese sono quelle che sono scherpera per darmi un tono non ho mai avuto cine operatore va beh dai faccio questo video perché in realtà sto lavorando da ma sigla e poi ve lo dico perché dai sigla allora dicevo che faccio questo video cos'è così anche un po per aggiornare perché vabbè sto facendo della manutenzione su questa pianta e mi è venuta in mente che allora è una pianta che dovevo usare per un seminario sull'estetica e mannaggia vabbè per gli eventi che è inutile stare a dire è andato tutto in nulla e niente dobbiamo rivedere tutti i programmi della primavera perché c'era in programma tre giorni di lavorazione su sta pianta nel senso non tre giorni a lavorare su sta pianta perché va beh la finiremmo prima no ma erano 33 giorni proprio date separate in cui dovevamo andare a lavorare questa pianta qua tra parentesi sto pulendo sto facendo la pulizia del fogliame vecchio siamo un po fuori periodo andava fatta prima però ho tempo adesso la faccio adesso dicevo dovevo fare tre giorni su lavorazione su sta pianta qua l'unica cosa che doveva essere delle lezioni di gruppo quindi tutto va pallino perché doveva essere il primo giorno progettazione dell'estetica scelta dei rami contatto secondo giorno lavorazione della legna secca invecchiamento quant'altro terzo giorno fine del cap della legna secca e una o due pieghe che secondo il progetto i progetti che in mente andrebbero fatte niente e chiaramente erano delle condizioni che volevo poi andare a concretizzare da in primavera diciamo e niente tutto si sposta in là perché il laboratorio il laboratorio adesso è grosso ma la capienza massima che può avere 40 metri quadri ma più di quattro persone non mi va di metterci in più vediamo anche se andremo avanti con le lezioni perché anche se c'è capienza è comunque è molto difficile perché è lontano così il telefono oggi perché a un metro allora volevo far capire che mostrare le cose agli allievi di un metro è molto veramente molto complicato dare lezioni in queste condizioni praticamente non sarebbe poi ottimale ecco per apprendimento quindi vedremo secondo i lavori che ci sono da fare in laboratorio modulerò poi le presenze però ecco diciamo che cercherò di posticipare tanto non è posticipando di un mese due mesi le lezioni che uno che cambia la vita né bonsaisticamente né economicamente né niente quindi dicevo ecco mannaggia però purtroppo mi dispiace perché oramai io come tanti altri professionisti ecco qua ad esempio dicono di non toccarsi la faccia il naso così mi sono appena toccato e anche se non dovessi avere quel dannato virus ecco il tasso una pianta velenosa quindi si dice poi dicevo viene tutto posticipato anche posticiparlo ecco magari l'estate se il problema si risolve può essere bello perché si faranno delle belle giornate e posticiparlo a settembre poi ci sono altri impegni e non so non vorrei che andasse poi in autunno inoltrato oppure poi l'anno prossimo ma chi se ne frega no era per dirvi comunque lavorazione la pulizia del tasso siccome qualcuno ha chiesto informazioni quando avevo fatto il mio tasso come faccio là dietro prendiamo sto aggeggio poi non riuscirò più a configurarlo il mio tasso là dietro questo lui a questo è il mugo vabbè niente no non ne parlavo nel questo tasso lì intanto guardate piante fiorite belle si parlava di pulizia con la la era una pulizia di una pianta matura ecco questa deve essere la pulizia se si vede di una pianta può scappata in costruzione una pianta grezza cioè andare a tirar via tutto quanto va ancora ad essere presente sui rami lignificati semi lignificati adesso noi terremo solamente le punte quale spezzeremo in modo tale che andiamo a ottenere un buon arretramento in questa fase però se noi prepariamo la pianta in questo modo qua non andremo più a rinvasare quant'altro cioè se io in previsione il rinvaso della pianta non vado a fare sto lavoro viceversa perché non sono teorie astratte non sono teorie incomprensibili e sono essenza legato proprio a fondamenti dell'agronomia peggio ancora peggio ancora perché mi hanno scritto diversi concimato ho potato però poi ho anche scusate ho rinvasato ho potato ma poi ho anche concimato è brava fava non è che è meglio evitare nel senso una volta che spezzi la la testa del germoglio e la pianta lì si inchioda quindi non devi neanche concimare perché vai a concimare in una condizione in cui non è ottimale nel senso il concime è un così un supporto alla fertilità no che poi più che concime non puntate tanto sul concime quanto sulla completezza della nutrizione microelementi guardate tanto i microelementi più che macroelementi la nutrizione ricordatevi da essere completa ma allora si fa tanto gli alchimisti andate in internet cercate legge di liebig troverete cercate le immagini troverete una il disegno di un di due barili uno con le centine tutte impari uno con le centine uno su uno giù dove l'acqua esce vabbè se vedete col disegno lì cliccate andate c'è anche la teoria di liebig e capite un attimino di cosa si parla quindi non di imparatici non di rimedi della nonna ma di qualcosa veramente con dei fondamenti scientifici sui quali tutti gli agronomi si basano allora ecco un'altra cosa che volevo raccomandare quindi è attenzione quando andate a manipolare sta qua è una preparazione di una pianta per una lavorazione futura quindi adesso io piuttosto che andare a cimare tutti i rametti andrò a magari a limitarne il numero cioè anziché 50 20 rametti con tutte le teste cimate andrò a tenerne 10 e non cimerò il germoglio il germoglio apicale quando si parla di apice si parla di apice di ogni singolo ramo non solo la parte della alta della della pianta perché anche chi mi scrive e dico dio l'ho già detto diverse volte o se vedete tutti i video se no da trogloditi l'apice è l'apice anche del ramo non è solo l'apice la pianta se no cosa fai ti pare che fai l'agronomia c'è una scienza solamente per l'apice delle piante quella pianta la che alta 20 metri no 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 ok e basta tutto lì dopo magari ci aggiorniamo con un altro videino vi faccio vedere il ramo potato nel frattempo che io vado avanti con la mia pulizia ecco questo volevo raccomandarvi quando mi scrivete allora innanzitutto vabbè i video che faccio io non sono corsi non sono lezioni sono spunti per rivolgersi a un professionista per approfondire un professionista per approfondire possibilmente quel professionista se sono io faccio i salti di gioia va bene effettivamente tanti si sono rivolti a me sono molto contento non mi posso lamentare chi sceglie invece di beccare solamente consigli via video non può pretendere di contattarmi avere la risposta dopo tre minuti e arrabbiarsi se non trova la risposta peggio ancora è che chi ti si rivolge al numero whatsapp al numero via mail sotto i video così facendo così ponendo delle domande senza presentarsi senza so chi cavolo sei delle domande secche così senza a me perché io vengo anche da una generazione che c'era comunque rispetto verso il proprio istruttore adesso io non dico chiamate maestro che vi segue io anzi non voglio essere chiamato maestro però fischia cioè non ci conosciamo a voi sembra di conoscermi perché con i video vi sembra di entrare in casa mia vi pare che sia quasi io vostro faratello ma non è così quindi quando mi chiedete informazioni un po di educazione ci va sempre perché sennò poi mi girano in cinque minuti e non vi rispondo vi rispondo male ma di solito non vi rispondo dai va bene sto qua ecco era solamente una precisazione perché purtroppo questa cosa qua dei video è partita mi piace farlo però non è e dare consigli non è nella mia attività principale perché io campo con i corsi quindi le persone che vengono in laboratorio ad ascoltarmi consigli che seguono i miei corsi nei corsi online no io non posso dare la stessa assistenza a chi segue i miei video e sceglie un'altra dice di fare il do it yourself si dice no di fare tutto da soli e prendere un po di consigli qua la magari anche criticare ma ma sei sicuro sono sicuro cazzo me l'hai chiesto a fare cioè mai chiesto un parere io te l'ho dato sono sicuro sì se non te lo davo tutto lì quindi anche queste persone dico attenzione perché se veramente volete fare buon sei a un certo livello ripeto non dico che dovete venire da me struttori ce ne sono tanti sono in italia poi veramente siamo un livello alto ci sono tanti bravi struttori istruttori sto parlando e quindi qualcuno che ha dimostrato di fare andate da uno da loro di loro e sicuramente vi potrà guidare ecco se uno ripeto poi non so una cosa che succede ogni primavera che c'è questo boom di neo appassionati che arriva e mi pare poi di aver capito tutto nei primi 15 giorni di passione verso questo hobby no no è una cosa che ci vuole anni 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 ci ho fatto anche un viaggio che cercate indietro un ho fatto un meme su un boss amico luca amico allievo amico luca proprio per far capire che certi lavori ci arrivano ci arrivi dopo anni di esperienza mettendo insieme tutto e sapendo anche come potare come abbinare certe tecniche in quale momento quando intervenire come concimare tante cose come fare trattamenti tante cose e non è il bonsai non è un hobby che deve basarsi sul risultato lampo ci vuole del tempo perché altrimenti tutti quelli che ci ha messo 30 anni 40 anni di esperienza per arrivare a un certo livello non è che sono più indietro di cottura semplicemente sono un livello superiore o hanno intrapreso altri percorsi quindi chi dopo un anno dice aspe ho capito tutto è attenzione perché è già il primo errore che state facendo e così quindi vi consiglio di meditare guardare attorno quando vedete una pianta dire io la saprei fare quella cosa mi manca non è solo il dagli acqua al sole potare dagli concime no sono tante cose messe insieme bisogna capire le tempistiche e capiamole dai niente qual lavoro è lunghino vado avanti poi magari lo faccio tutto perché va liberato in modo tale che prenda sole sole aria e sviluppi le gemmine arretrate per un infoltimento futuro e ci va del tempo è questa sera sono ancora ci vedi a facciamo il tempo a vederci dopo dai allora una bella pulita tirata quasi all'osso vedete adesso si vede anche sotto la ramificazione che prima non si vedeva è un lavoro che sicuramente è orientato per dare forza alla pianta sta pianta per poter lavorare bisogna far chiarezza selezionare i rami e la selezione rami la faremo durante la lezione poi di estetica perché adesso mi brucierei lavoro sostanzialmente porto avanti la coltivazione poi faremo perché durante quella lezione dovremo parlare anche di perché scegliere un ramo piuttosto che l'altro e niente però volevo farvi vedere era una pianta fiaca dimenticata c'erano sono ancora in alcuni punti dei rami vecchi che non portano più forze probabilmente la pianta poi le eliminerà però pulendo in questo modo abbiamo fatto sì che i rami anche più bassi adesso prendono nuovamente luce possano prendere un po di vigore andrà rivista nella sua struttura perché aveva già avuto una prima impostazione oramai i rami sono cresciuti non si può più tornare indietro non va la pena innestare faremo un'altra un'altra scelta niente dai abbiamo visto allora come alla fine come preparare un materiale spesso si vedono materiali già pronti abbiamo stato materiale già pronte piante già preparate poi magari solo a farlo styling e qua proprio si tratta di resettare tagliare buttar via un po di lavoro fatto prima e andare a riprenderlo adesso vi faccio vedere purtroppo nel tempo si sono create delle vulnerabilità e dei rami che oramai non sono più buoni ora ve li mostro vi faccio anche una panoramica della pianta allora ecco prima cosa volevo farvi vedere è potare cosa vuol dire cioè tante volte non si taglia perché dispiace dove così in controluce dispiace no tagliar via del lavoro svolto negli anni precedenti però ragazzi non si tratta di buttar via del lavoro in realtà si tratta di ricreare una pianta con i presupposti per poter essere poi lavorata in sicurezza forte no vedete qua quanta roba guardate allora questo è un liquido amber non so vedete qua quanta pianta c'è nei confronti no c'è metà pianta è lì un'altra cosa che volevo farvi vedere ecco ad esempio ci sono dei rami purtroppo compromessi qui questo succede un po spesso sulle piante tra trascurate vedete questo un tirante ha fatto questo segnetto che apparentemente sottile sottile però sto segnetto sul tasso ancora ancora non mi crea un grosso problema già ramo non mi piaceva perché andava in basso ma questo è un punto vulnerabile che se io vado a piegare vedete come si apre è il primo punto dove si apre quindi negli anni se io devo fare una piega di un certo tipo proprio riflette e allora tagliamolo perché tanto non ci serve poi fa questo con struncino a scendere che va bene non mi dice nulla taglierò molto di questo ramo ok un ramo purtroppo compromesso quindi ecco questo per dirvi attenzione tutti i tiranti specie se sono sottili così via tutti togliamoli perché sembra una sciocchezza un filo da nemmeno un millimetro però fa proprio un taglio netto nel legno qui ad esempio ci sono dei segni notevoli e qua sarà compromessa la piega vedete il filo dove era finito e fate l'attenzione toglietevi tutti i tiranti e via dai questa ecco la panoramica della pianta vedete il tronco anche sinuoso voglio qui ci sarà da fare tutto un discorso lavorazione a legna secca e ce ne sarà purtroppo ecco nel periodo siamo stati sfortunati abbiamo programmato questo evento in un momento in cui non si può anche perché potrei farlo in un campo però con le distanze ci sarebbe poi innanzitutto dovrei sgolarmi dovrei usare un microfono un megafono qualcosa e i ragazzi non potrebbero essere abbastanza vicini per vedere i dettagli di lavorazione e vabbè non è solamente uno show è proprio un qualcosa finalizzato ad imparare certe tecniche quindi aspettiamo dai perché con le belle temperature il virus attenuerà la propria così sarà meno aggressivo e potremmo incontrarci ancora magari uno spazio un po più ampio per fare festa vedete tra gli incontri didattici c'era anche l'ultimo styling di questa pianta rimandiamo anche quello poi e ce n'era di piante a fare questa andava rimessa giuvolo lavorazione di una latifoglia la promessa in vendita vabbè non è andata a buon fine alla trattativa e quindi è lì e ci facciamo una bella lezione didattica tutti insieme e ce n'era di lavoro previsto là in fondo ci sono ancora dei materiali dove è in fondo in fondo nell'off limit dei materiali dove si può andare a mettere mano anche la c'erano insomma erano previsti diversi lavori che invece niente o se non è adesso l'importante tenere in sicurezza adesso tireremo via filo con silvestre lì mettiamo in sicurezza le nostre piante e poi chi se ne frega l'importante che siamo qua tutti poi fra un paio di mesi dai bene dai allora abbiamo parlato del tasso vi ho fatto vedere cosa avrei dovuto fare fra circa un mese nella lezione insieme siamo andati avanti uno step perché questo lavoro non poteva aspettare oltre anzi era già un po in ritardo beh vi ho fatto vedere come preparare il tasso abbia anche chiacchierato o redarguito qualcuno che io ci tengo che le persone seguono seguono i miei video però ripeto sempre con la giusta educazione quando vi rivolgete a una persona che alla fine non ci conosciamo anche nel momento in cui mi chiedete un consiglio voi lo chiedete non dovete pretenderlo e se lo chiedete chiedetelo con le adeguate maniere perché perché l'educazione fa sempre così piacere io non posso vedere uno che si comporta da buzzurro con me e poi vedo sulla sua baccheca facebook le frasi di filosofia le belle immagini giapponesi così filosofiche e pensateci dovete essere filosofici innanzitutto con il vostro interlocutore specie se non è il vostro fratello non c'è voglio dire confidenza per l'amor di dio mi fa so dar del tu da tutti però un po di rispetto per quello che è il mio lavoro e quindi magari qualcosa so niente intrattenimento così in questo periodaccio ci vediamo presto altri video in cantina da fare non so come organizzerò le mie giornate lavoro è tantissimo non so se riuscirò a rispondere a tutti devo rivoluzionare il mio modo organizzare il lavoro dai mi ha fatto piacere fare sto video a presto